È stato travolto da un'auto lungo la strada regionale 71, un brutto incidente stradale che si è verificato questa mattina attorno alle 8.20 alle porte di Arezzo in località Rigutino. Qui un pedone, un uomo di 86 anni, è stato investito in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 a bordo di automedica ed ambulanza. Dopo i primi soccorsi i medici hanno richiesto anche l'intervento dell'elicottero Pegaso che ha trasportato l'anziano in codice rosso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Per i rilevi di legge infine è intervenuta la polizia municipale di Arezzo.